Gli ultimi esercizi presentati sono focalizzati sul potenziamento con gli elastici ottenuto nell'ambito di esercitazioni con palla. L'obiettivo di questa esercitazione è il possesso palla. Veloce, veloce, anda, anda. Bravo, siamo, siamo, dai. Iniziamo in fase di riscaldamento con il palla in mano. Abbiamo guardato prima con il palla giù, a terra, con la gamba sinistra. Il step successivo si sposta, tocca un palo e immediatamente si lancia sull'altro palo. A terra è portare la gamba in appoggio completamente chiusa in maniera tale da evitare il passaggio della palla sotto le gambe. Grazie.